ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri orologi ed eccoci qua come ogni tanto accade come spesso possibile accade a presentare i video con le vostre collezioni di orologi all'interno quei pezzi di ferro pieni di molle mollette ingranaggi che girano misteriosamente per poi restituire un orario decentemente preciso è un miracolo un miracolo della scienza della tecnica o meglio era il massimo della tecnologia nei tempi in cui fu inventato l'orologio meccanico a giorno d'oggi no non è più così perché se vogliamo stare a vedere proprio il pelo nell'uovo il massimo della tecnologia per dire il tempo oggi sarebbe l'orologio atomico o gli smartwatch che si collegano via internet ti dicono l'ora massimo della tecnologia contemporanea intesa no però noi siamo un pochino steampunk e ci piace il futuro come fosse nel passato quindi gli orologi oggi con la stessa tecnologia al massimo della tecnologia di quella che hanno inventato nel passato l'incartamento è vicino quindi di proseguire con l'orologio del giorno che è questo simpatico longin ultracron con il calibro 431 a 36.000 alternanze orarie orologio del 1967 che era proprio l'anno nel quale è stato inventato a proposito di invenzioni il calibro ultracron di longin di manufattura quello che va a 36.000 alternanze orarie alta frequenza diciamo che il primo non è proprio primo perché l'anno prima ci fu il giro matic di girare per ego ma aveva una funzionalità ridotta perché la riserva di carica era infima cioè praticamente non era quasi utilizzabile mentre questo ha una riserva di carica decente aveva adesso non lo so non l'ho mai non l'ho mai controllato dire la verità perché ce li ho ai fini collezionistici no li indosso ogni tanto per godermelo un pochino in casa magari anche fuori qualche volta però li colleziono collezione non c'è in vintage quindi eccolo lì a me sembra funzionare bene adesso di basta con i discorsi simpatici e passiamo direttamente ai vostri video e guardiamo un pochino cosa ci raccontate ciao davide ciao chiamo ivan ti mando questo video da torino e volevo mostrarti la mia collezione di granseico vintage ok che la casa ha realizzato dal dall'anno della fondazione dal 60 fino al 75 anno in in cui hanno temporaneamente ammalato l'orogeria meccanica per quella al quarzo partiamo dal 56 gs è l'ultima famiglia di orologi commercializzata dal 70 al 75 questo esemplare dell'aprile del 72 ha una cassa da 36 mm di uno spessore di poco superiore ai 10 la corona è logata gs così come la fibbia che è originale megoyone che riporta insieme al logo gs anche quello di sua seikosha che era una delle due fabbriche insieme alla daini seikosha che concorreva internamente al gruppo per la realizzazione dei king e dei gran seiko interessante il calibro che muove questo orologio il 56 45 a che è un calibro automatico che perde rispetto al calibro che lo precede le 36 mille alternanze più canoniche 28 mila e 800 ma guadagni al 30 per cento di spessore alle 36 mila alternanze vedete il gran seiko è una di quelle che faceva e fa tuttora gli orologi ad alta frequenza 36 mila alternanze orarie non è che ce ne sono tantissime di casa che fanno le 36 mila alternanze orarie al giorno d'oggi c'è gran seiko zenith e logico con il nuovo ultracron quelle tre lì poi non mi ricordo in alta orologeria se c'è qualcun altro perché solitamente quando si va poi in alta orologeria pezzi degli orologi indipendenti pezzi unici o pochi all'anno addirittura si va al contrario si va sulle 18 mila alternanze orarie la carica manuale proprio per l'alta orologeria prossimo orologio appartiene alla famiglia del 61 gs che è stata commercializzata dal 68 al 75 ed in assoluto è quella che conta il maggior numero di referenze questo orologio che ti mostro del febbraio del 69 ed è uno dei primi seriali che è stato realizzato di questa referenza e alla particolarità di avere la scritta gran seiko sia sul quadrante che sul rotore la cassa di questo orologio di 37 mm alla corona logata gran seiko il bracciale è un bracciale coevo e originale gran seiko che veniva montato del 61 gs anche se questa referenza nasceva col cinturino e anche il fondello riporta il logo gs sul suo medaglione lo vede in questa custodia perché ho sostituito l'originale ad un fondello in zaffero trasparente sia per mostrare il calibro e anche per proteggere il medaglione interessante questa cosa intanto i miei complimenti perché te sei un vero collezionista è un collezionista con la c maiuscola è un appassionato è anche un espertone diciamo la verità addirittura hai tolto il fondello originale dall'orologio te lo sei messo nella sua bella custodietta a parte gli hai messo un vetro zaffero che non ho idea se te lo sei fatto fare su misura o se si trovano in commercio per poter ammirare il calibro quando a tuo piacimento senza dover ogni volta svitare o avvitare per farlo vedere all'amico giustamente hai fatto questa scelta e non ti biasimo non è sbagliata anche te hai questi orologi a livello collezionistico a scopo collezionistico quindi non è che ci devi andare in giro a mostrare l'ho snaturato mettendoci il fondello trasparente però non ci interessa perché te l'hai fatto per un motivo specifico per osservarlo te per farlo vedere agli altri bello interessante bravo il calibro di questo orologio il 61 46a un calibro automatico a 36 mila alternanze che veniva certificato secondo lo standard granseico da meno 3 a più 5 secondi al giorno nel corso degli anni poi questo calibro si è evoluto per essere certificato con la certificazione special di granseico da meno 3 a più 3 secondi al giorno e ne esiste anche una versione molto rara vfa verifine adjusted certificata per meno due più due secondi al giorno che belle grazie qua temporanea il 61 abbiamo questo 45 gs che un orologio del gennaio del 69 ha una cassa da 36 mm la corona pagata gs uno spessore inferiore ai 10 mm la corona originale la logata gs anche il fondello riporta il solito medaglione con logo gs è quello daini in questo caso lo vedi in questa confezione perché anche qui l'ho sostituito con uno in guarda che bello questo manuale così usare il calibro che il 45 22 a che è un manuale a 36 mila alternanza anche questo si è evoluto negli anni fino ad arrivare a alla versione vfa che era sempre certificata meno due più due secondi al giorno questo è l'orologio più caratteristico della collezione il 44 gs che è stato il primo con cui taro tanaka designer della casa ha inaugurato gli stilemi della grammar of design che è ancora utilizzata sui granseico moderni è stato prodotto soltanto due anni dal 67 al 68 questo è dell'agosto del 67 ed è leggermente più grande degli altri ha una cassa da 38 mm spessa poco meno di 11 la corona è sempre come al solito logata gs la fibbia e logata seiko originale dell'epoca il fondello al solito riporta il solito logo il calibro il 44 20 b ed è un calibro a 18 mila 800 alternanze che era già stato introdotto su un king seiko certificato cronometro qualche anno qualche anno prima cronometro questo orologio il 61 gs che è un orologio storico per granseico perché è stato il primo in assoluto ad avere un calibro automatico e perché fino a prima di questo orologio seiko aveva nella sua line up diversi orologi con certificazione cronometro fin quando l'agenzia svizzera decise che soltanto quegli orologi certificati svizzera potessero essere tali e quindi granseico nel 66 decise di fare un suo standard chiamato appunto granseico standard con uno scarto tollerato medio giornaliero da meno tre a più cinque secondi al giorno che era assolutamente notevole perché il cosca all'epoca aveva uno scarto tollerato da meno uno più dieci e questo esemplare del 57 in ottimo stato con la fibria originale dell'epoca del 57 67 marchiata seiko e con una corona che non è marchiata perché questo modello di fatto mutuava calibro e cassa dal seiko matic che era già stato lanciato qualche anno prima con appunto la certificazione cronometro il fondello ha il solito logo gs nasconde il calibro 6246 a che è un calibro automatico a 19.800 alternanze ora che è stato appunto il primo montato dalla casa ti mostro adesso il 57 gs che è detto self data che è stato commercializzato dal 63 al 67 aveva la rimessa rapida nella data sia nella direzione che nell'altra ed era impermeabile a 5 atmosfere questo esemplare dell'aprile del 65 e ha la scritta cronometro e granseico stampata questo esemplare quindi ha una cassa da 37 mm e la corona logata così come la fibbia logata seiko il fondello ha il simbolo del leone che all'epoca come oggi è il simbolo di granseico mentre il calibro è il 57 22 che è un manuale a 18 mila alternanze e che di fatto si tratta del 31 80 il calibro che è stato certificato cronometro con granseico the first con l'aggiunta del datario chiudo il video con il granseico cronometer detto granseico the first perché è stato il primo orologio con cui la casa ha debuttato venduto dal 60 al 63 e mostro al calibro 31 80 certificato cronometro questo esemplare è del maggio del 63 ha una cassa da 36 mm la corona è logata la fibbia è quella originale logata seiko mamma mia sul fondello è presente il simbolo del leone davide io ho finito spero che il video ti sia piaciuto un saluto a te e a tutta la community ciao ciao grandissimo avete notato che sono stato zitto per tutto il video quasi tutto il video perché non c'è da fare altro che ascoltare in silenzio il sapere nel senso che è sempre sorprendente come una persona si appassioni magari a dato marchio no e poi cerchi di carpire tutte le notizie tutte le nozioni tutte le varie referenze uscite negli anni nel suo sapere a me questa cosa mi sorprende sempre e mi fa piacere di vedere un amico così appassionato da arrivare a togliere i fondelli metterli in una custodia sicuramente che se le costruite da solo perché non esistono mettere lo zaffero agli orologi e la maggior parte per vedere poi il calibro ogni tanto per anche per spiegarlo però bello complimenti io ti do un 9 ti do un 9 perché è una collezione monotematica voglio dire no uno dice però 9 per tutto per le riprese per il montaggio per la passione per gli orologi per averci saputo spiegare nei dettagli anche il discorso della certificazione cronometro no fino a un certo punto gli svizzeri certificavano anche gli orologi fuori dalla svizzera poi hanno cambiato una cosa che mi è venuta a mente lì per lì è ma perché non ha continuato o che io sappia non esiste ancora ad avere una certificazione propria seico un un ente per assurdo avrebbe potuto continuare ad avere un laboratorio negli anni dagli anni 60 fino ad oggi e poi quel laboratorio sarebbe diventato punto di riferimento non solo per per gran seico ma per i secco per tutti gli altri marchi giapponesi citizen quello che vuoi te no qualcuno voleva farsi certificare un orologio di pregio di punta nella propria gamma di orologi e andava al laboratorio gran secco per me era un'idea è un'idea anche oggi per magari fare un po di razionalità no tre vari calibri di seico no che ci sono hanno ampi scarti poi magari fai quello che è certificato dal laboratorio gran secco e a più a pila allora lì magari spendi anche le mille di più cosa ne so comunque complimenti perché io sono rimasto ad ascoltare in silenzio essendo completamente ignaro ignorante in questo campo qua quindi ho ascoltato con piacere e sicuramente anche gli amici a casa avranno apprezzato questo bellissimo video prossimo ciao davide ciao cesco da torino ti faccio innanzitutto i complimenti per il canale grazie che porti per la tua ironia per l'essere cinico cinico a volte che è una cosa che mi fa molto ridere è un paio di anni che ti seguo ormai e ho sempre avuto la passione per gli orologi però mai ho mai iniziato una vera e propria collezione e da quando ti seguo mi è partita la scimmietta quella cattiva quella quella famelica il babbuino quindi ce l'ho sempre la sua spalla come dici te che guarda gli orologi degli altri gli viene la cuolina in bocca e vuole la nocciolina e io piano piano sto iniziando a cercare di dargliela bravo banda le ciance partiamo col primo è unico quarzetto che questo caso con la calcolatrice ci piace simpatico che ho usato in situazioni con gli amici in situazioni così con gli ardi che da ubriaco in vacanza carino non indosso più perché essendo a batteria e abbandonato e quindi promettiamo da parte infigard la batteria infigard primo orologio automatico o seiko samurai versione paddy che dire un orologio bello di presenza ma meglio orologi presenza piacciono quasi 44 mm di diametro cassa era in ceramica vetro in zaffico zaffiro coronavite e 200 metri impermeabilità e parla poi si può si parla oggi che uso spesso al mare gli ho applicato questo cinturino nato sempre originale seiko che alterno con il suo in dotazione in gomma va bene secondo orologio automatico questo long in legend diver da 41 mm in questa configurazione grigia col dial grigio degradè che non ho mai visto sul canale sinceramente ma a me piace molto distinto mi è venuto da sceglierlo è fatto bene mi piace mi dà soddisfazioni è bello da portare fa il comodo al polso soprattutto perché ha questo cinturino nato che va a coprire bene le anse quindi non le fa sporgere mentre con cinturini cinturino in pelle che ho provato ad acquistare il risultato è pessimo perché vanno escono le le punte delle anse è un aspetto brutto invece col nato che va colmare bene le anse risultato più armonioso questo l'ho acquistato seconda battuta diciamo perché lui esce col suo in dotazione che è grigio ho acquistato questo originale sempre long in nero che alterno bravo poi altro orologio chiudono black bay da 40 mm bull dial blu bello everyday watch che uso veramente spesso anzi forse quello che uso di più perché mi sono accorto che non avendo mi sono accorto ovviamente non avendo la data è più facile da regolpolare più veloce quindi lo indossi più velocemente e poi perché mi piace strizza un po l'occhio al cugino ro e cugino rolex ma io non trovo tutta questa somiglianza anzi lo trovo anche con con una sua personalità però orologio molto bello secondo me cosa vuoi dire i termini sono quelli e povertà ultimo orologio quello diciamo più di pregio che ho nella collezione è questo rolex mariner chi era verde ultima referenza acquistata al listino ovviamente perché non avrei speso un euro in più per per acquistarlo è l'orologio che ho sempre sognato fin da bambino quindi è iconico c'è l'orologio proprio più blasonato che ci sia però che ti devo dire a me piace un sacco a te non ti fa impazzire però insomma a me ne farà una ragione piace a me ma c'era così che dire poi all'orologio precisissimo ben fatto robusto e indosso veramente con piacere molto bello bene davide la mia collezione purtroppo finisce qui per adesso ho intenzione poi di prendere un cronografo forse un anarth avevo intenzione di votare però sono un po indeciso ancora devo ancora fare un po di valutazioni e poi volevo un orologio un po più formale tipo un po più da cerimonia diciamo pensavo un nomos e spero di di prendere spesso di prendere presto almeno ti farò un altro video con l'ampliamento della della mia raccolta va bene ti mando un saluto un abbraccio è love 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 allora le tue due scelte papabili sono sicuramente nomos e anarth sono sicuramente due marchi che fanno orologi come si deve quindi vai tranquillo qualsiasi modello scegli l'importante che il gusto lo scegli ma hai già dimostrato di andare a tuo gusto e non seguire no le mode diciamo più di tanto il anche lì submariner lì nero e verde piace alla gente che piace a me non piace per me rimarrebbe in vetrina invece sono le persone a cui piace come te e se lo godono con tranquillità spero con tranquillità poi per il resto cosa c'avevi l'oncine agenda e versetto tudor e rolex l'oncine agenda e diamo un bel set tondo né più né meno sul fatto del del tudor che assomiglia proprio questo qua il black bay così solo tempo non dai verbo a chi assomiglia a chi vuoi che assomiglia ma nessuno della famiglia rolex non mi pare proprio per niente comunque cioè non è che bisogna sempre trovare una somiglianza con qualcosa dei quattro belli orologi no un secco un logine un tudor e un rolex quindi così quanto ho sette te l'ho dato sette io rettifico se ho sbagliato prima è sette non mi ricordo ma è sette te lo sei meritato e avanti così alla prossima mandami un altro video che non vedo l'ora caro davido buongiorno il primo video che ti mando sono augusto da roma bravo sono a passiamo ai neurologi da un anno da pochissimo sono veramente alle prime armi profitto di farti vedere sono batterista questo è il mio gruppo ecco piccola marchetta non c'è il primo che ho preso che è stato un sirizen promatter con super titanio con il quadrante verde l ny 0100 che ormai conosciuto da tutti certo e poi cosa è successo ho scoperto della cassa botte ho scoperto che mi piacciono la cassa cuscino scusami scoperto che mi piacciono tantissimo irologi ispirati agli anni 60 70 ho avuto approfittando dei parenti che erano in viaggio a tokyo mi sono fatto prendere a un prezzo appunto onesto questo bellissimo baby turtle che non si vede spesso sul tuo canale si vede sempre appunto più spesso il classico tartolone cercavo questo perché era un po più particolare mi piace perché ha la lente magnificatrice che da tanti è bistrattata io la trovo estremamente comoda veramente molto facilmente non ha il giorno della settimana che trovo che pulisca molto di più il quadrante lo trovo molto equilibrato e poi mi piace questa bella corona maschia a ore 3 molto grazie non da fra l'altro nemmeno fastidio all'utilizzo molto famoso non l'ho mai visto in questa colorazione verde acqua da sempre ho una passione per i mari della sardegna mi ha ricordato molto quel colore un pochino particolare questo è quello che io utilizzo tutti i giorni ovviamente comunque tra andando in moto tutta la pioggia questo robusto segna anche bene il tempo tutto sommato non l'ho misurato ma questo è il mio everyday watch in pratica meno male poi ho scoperto appunto questi anni 60 70 mi piace sempre di più e ho provato prudentemente avvicinarmi al vintage questo è il primo vintage che ho preso ed è un tisso pr516 questo molto economico ma questo è un orologio automatico da 34 mm ha placcato oro e dice che sono in oro gli indici e le sfere però ci credo poco questo ho pagato veramente poco però appunto volevo avvicinarmi al vintage in modo prudente perché comunque mondo piano di fregature e questo lo uso abbastanza spesso un pochino più delicato però mi piace molto volevo un orologio dorato il mi piacerebbe tantissimo prendere l'omega seamaster 600 quello proprio anni 60 con i piccoli secondi anche il 300 mi piacciono tantissimo vedremo vedremo quello potrebbe essere un prossimo passo anche se molti vengono contraffatti molto carino si trova a prezzi veramente irrisorio mi sembra averlo pagato 140 euro un po vissuto però insomma poco male lo utilizzo volentieri cialdatario si tisso vintage vengono via con ora 140 è veramente poco però intorno ai 200 e rotti o giù di lì si trovano i tisso vintage è per quello che anche l'altra volta dicevo che può essere un buon marchio da collezionare a livello di vintage perché ce ne sono tanti sono economici ora io spero che tu almeno l'abbia aperto per vedere cosa c'è dietro che non c'è un criceto dentro no il minimo da fare quando si compra un orologio vintage è sapere cosa c'è dentro che non ti abbiano fregato ci hanno messo un calibro di quelli da 5 lire non è più un tisso è poi mi è capitato un occasione per questo questo è un villervetta che bello anche questo è degli anni 70 un pochino successivo al precedente è ovviamente cassa a botte molto carino secondo me io ho messo questo aveva questo è un nos pensa questo l'ho trovato nuovo mai indossato aveva un cinturino c'ho il cinturino di serpente originale l'ho sostituito con questo abbastanza simile insomma utilizzo anche piuttosto di frequente la particolarità è che alle sfere piegate legge piegate a mano per seguire la forma del quadrante questo è stato preso immacolato questo è un produzione nuovo anche questo pagato una cazzata mi piace molto villervetta come marchio mi piacciono anche le produzioni nuovo marchio che mi sta veramente molto simpatico simpatico la lancetta magnificatrice la scusami la lente magnificatrice sulla data si legge chiaro anche questo tetto invece a 35 mm mi piace molto insomma mi piace molto anche a me stato l'ho aperto con gran piacere 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 bene per ultimo vediamo un po' questa chicca questo ce l'aveva papà in un cassetto abbandonato veramente da credo 40 anni questo è un omega manuale questo da quanto ho ricercato siamo anni 40 è un po' vissuto oro 14 carati e la particolarità di avere alle 12 alle 3 e alle 9 questi brillanti credo che siano ed ho scoperto che in quei anni gli omega quadrante nero erano su richiesta ce ne sono pochi perché erano appunto degli ordini speciali perché sennò erano tutti i quadranti chiari carica manuale pensa che mai toccato mi sballa 8 9 secondi al giorno quindi anche preciso questo con un abito questo una bella camicia lo metto spesso lo volevo dare via all'inizio sono sincero che oddio ma è piccolo in realtà io avendo un polsino molto piccolino circa 16 e mezzo 17 questo con una camicia in realtà sta benone mi piace veramente un sacco al fine mi sono affessionato questo non l'ho mai visto anche online cercando se ne trovano veramente pochi ora io non voglio essere di solito guasto a feste ma secondo me è falso secondo me è falso questo orologio dici anche che non c'è ma il bias cognitivo no bias non se ne trovano quindi è raro non se ne trovano magari perché non esiste potrebbe essere questa non la soluzione io vedo una corona storta vedo quegli indici lì che hai detto te che sono sono troppo 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 grandi troppo fuori luogo per essere per essere vero poi poi posso anche sbagliare ragazzi però a me mi sembra una puttanata come dicono in francia mi sembra un falso una crocchio una roba che non decente anche il colore lì della cassa il vetro mi sembra anche troppo sagomato non li facevano negli anni 40 cioè guardate che anche in passato negli anni 70 così facevano degli omega falsi e le facevano come fosse come non ci fosse un domani io poi mi fido di quello che dici te tuo babbo fate voi per me il mio dubbio rimane trovo veramente fitta infatti alla fine ho deciso di ritenerlo mi piacerebbe molto appunto come ti dicevo quello magari lì e per arrivare magari a lo speed master che mi piace tantissimo anche se il mio preferito è il mark 2 ma il mark 2 ci vuole un polso di un certo livello che ne pensi sei d'accordo visto che da quanto ho letto è effettivamente un bel mattoncione su un polso piccolo sarebbe un po sprecato un saluto a tutti la community e love un salutone dai ragazzi non lo so ditemelo voi con l'orologio lì se vi sembra legit o meno per quanto riguarda l'omega speed master mark 2 ma si è grosso ma perché deve essere così secondo me proprio con il fatto che è un vintage di quelli sportivi quasi tool watch ha senso anche averlo indossarlo anche con un polso piccolo a me piace una particolarità di cassa ci piace poi per il resto che voto di odio un 6 un 6 di incoraggiamento dai che che erano oggi ci avevi un bel secone e 3 vintage di cui uno non si sa se è vero il villervetta lì dyna wind c'è scritto ore 6 ecco quello è veramente bello quello lì è veramente bello mi piace tanto e vorrei averlo anch'io 35 mm poi con la cassa così a tonno o a cuscino che dir si voglia secondo me si indossa anche sta anche bene al polso comunque niente se rimane da settembre tutto sei ma è un sei politico proprio perché ci sono gli scioperi intorno che dicono bisogna dare sei e ti ho dato sei perché altrimenti nemmeno quello ha un secco due vintage o un po magrina però il villervetta è veramente bello mi ripeto boh dai ragazzi a me sembra di aver detto tutto non è che posso star qui a grattarmi la gola devo andare a vedere i video dei gattini su instagram che sono tanto simpatici vi ringrazio per essere arrivati fino qua e spero che vi sia piaciuto tutto quanto compreso me e vi ricordo gli appuntamenti fisici che come sempre sono quando voglio il più spesso possibile qui su youtube e vi ringrazio per essere